Come sta andando e quali consigli? Consigli, Antonio, purtroppo abbiamo pochissimo tempo per gestire questa situazione, ma siamo ben contenti di poterla gestire perché grazie all'ordinanza della Regione Puglia, grazie all'intervento del Sindaco Rossi e grazie anche all'intervento che è stato fatto questa mattina in Questura, abbiamo la possibilità di giocare questa partita davanti al pubblico, c'è tanta gente che aspettava questo momento, abbiamo poche ore per gestirla, ma insomma stanno tutti rispettando le regole e le norme per l'acquisizione dei tagliani. Una cosa che ci tenevo a dire è che in questa fase ovviamente noi abbiamo dovuto prendere una decisione su come gestire la biglietteria in poche ore e in pochi minuti, quindi chiedo veramente a tutti di non avere rammarico o di rimanere vicini alla squadra anche se non ci sarà la possibilità magari in questa fase di vedere la partita, ci sarà sicuramente in futuro e cercheremo di trovare le misure per far sì che tutti possano accedere al palazzetto in futuro.